Sto leggendo un interessante libro scritto da un sociologo che si chiama Marco Marzano dal titolo La Cassa dei Casti, un libro che si prefigge di investigare l'interessante tema della sessualità nel clero. L'autore, che si professa ateo, mette in chiaro dall'introduzione i suoi rapporti con il clero che risalgono ai tempi scolastici, tempi in cui era entrato in contatto con alcuni sacerdoti colpevoli di abusi. Sappiamo che queste cose esistono purtroppo e in alcuni lasciano ferite che difficilmente si rimarginano. A me però, a parte questi precedenti, ha sorpreso un'affermazione dell'autore nel suo libro quando dice che, e cito, i preti per mezzo del celibato diventano l'allegoria vivente dell'organizzazione, la sua migliore rappresentazione reale, la purezza della vita sessuale di ciascuno di loro testimonia, la purezza dell'intera istituzione, la sua distanza e superiorità rispetto agli ordinamenti mondani, la sua capacità di costruire uomini speciali, creature in grado di resistere alla più universale e potente delle tentazioni, quella del sesso e dell'amore. Questa è la citazione. Ma a me questa affermazione mi sembra un poco grossolana. È vero che il celibato è un dono importante che viene richiesto al presbitero, pur vero che per un certo periodo la Chiesa è andata avanti senza. Certo, il celibato è un elemento di grande significato, ma non credo possa essere definito come il fondamento o l'allegoria vivente di questa istituzione che è la Chiesa. Su cosa si fonda allora la Chiesa? Si fonda sul sacrificio eucaristico. Lo aveva ben visto il padre passionista Enrico Zoffoli che nel suo libro Eucaristia o nulla diceva che, e cito il padre Zoffoli, se la presenza di Cristo non è reale e sostanziale, non si dà sacrificio eucaristico, non si dà sacerdozio, non si dà gerarchia, non si dà neppure un magistero oggettivo e infallibile. E, venendo meno questo, non possiamo più credere in verità indiscutibili, assolutamente certe, d'ordine dogmatico e morale. Insomma, quello che dice il padre Zoffoli echeggia quello che già dicevano e pensavano e vivevano i martiri, e cioè che senza la domenica, senza l'eucaristia, non possiamo vivere. Ecco perché l'attacco più feroce è stato sferrato proprio contro la liturgia e la sua dignità, perché una volta distrutta questa e la giusta adorazione dovuta al sacrificio eucaristico viene giù, di conseguenza, tutto il resto. Mi rendo conto che il sesso fa vendere e non sarò io a negare le questioni legate alla sessualità che riguardano il clero, ma se si guarda in quella direzione per capire il cuore della chiesa, a mio avviso, si sbaglia grossolanamente l'obiettivo.